Iniziamo subito perché abbiamo la fortuna della presenza di alti livelli istituzionali che hanno sempre una guerra contro il tempo, contro tutti gli impegni che li coinvolgono. Quindi io ringrazio tutti per essere qua. Cominciamo subito questa nostra giornata definita conferenza stampa ma che Massimo io forse potremmo chiamare una giornata di festa. Io personalmente sono qui prima di tutto per ringraziare i soci della nostra azienda e all'interno dei soci evidentemente le nostre istituzioni qui presenti al massimo livello perché il 22 dicembre hanno dato il via libera a un piano di revamping e ampliamento del quartiere molto importante, non solo ma ci hanno anche consentito di avere una dotazione per non concentrarsi unicamente sul fatto immobiliare ma avere anche la possibilità di lanciarsi in operazioni con i nostri compagni di strada per esempio, quelli che sono qua oggi con noi in giro per il mondo. Credo che il fatto che abbiano dato via libera, lo voglio sottolineare, al piano di sviluppo rinviando come si sa alcuni delicati e molto rispettabili problemi ancora aperti, è stata una dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, di grande sensibilità mettendo in primo piano la fiera e il suo futuro. Devo poi ringraziare lo studio di architettura di Gregorio e lo staff nostro interno diretto dal nostro ingegner Giuliani per la completezza, la competenza, la grande professionalità e anche la rapidità del lavoro di progettazione e valorizzazione economica. Mi ha colpito la loro capacità di innovare ma nel cercare modernità, nuova fruibilità di nuovi spazi eccetera sono riusciti a restare fideli alla ispirazione originaria diciamo, quella dell'architetto Benevolo che tra l'altro è recentemente scomparso al quale va il nostro ricordo e il nostro ringraziamento. I padiglioni del Benevolo non lo so, io forse sarò un po' molto particolare nel guardarli ma secondo me restano ancora un segno identitario, un segnale architettonico bellissimo diciamo, del quartiere di Bologna e mi fa molto piacere che su questo ci sia stata la condivisione dello studio nuovo. Ora io vi chiederei solo qualche minuto per dare un'occhiata a quello che in effetti è stato fatto, la parte architettonica del nostro piano di revamping che ci ha consentito oggi di essere qua a festeggiare. Quindi chiederei al nostro direttore generale Bruzzone di illustrare rapidamente un po' i passaggi fondamentali dell'operazione e poi visto che ci onora con la sua presenza avrei piacere che poi l'architetto Di Gregorio che recentemente mi fa molto piacere, ha avuto anche un altro importante incarico sull'aeroporto di Parma ci desse anche un suo saluto rapido. Grazie, vai Antonio. Adesso parte in questo momento un filmato che fa vedere gli interventi nel loro complesso. Io riassumo brevemente le quattro tappe che vedranno questo revamping del quartiere. Il primo tassello è la distruzione con la ricostruzione dell'attuale padiglione 29-30 su una superficie ampliata che non soltanto ci consente di togliere due padiglioni che indubbiamente nascendo come provvisori nel 1977 hanno fornito il supporto per un tempo sufficiente alle attività fioristiche ma ci consente anche di andare a chiudere una circuitazione a piano 6 quindi a quota 6 che renderanno notevolmente più fruibili i padiglioni 19-15 e 18 anzi 20-18 e 15 che sono i nostri biplanari, la parte alta dei nostri biplanari. Questo è il primo intervento previsto la distruzione dopo il Cersaie di quest'anno con la ricostruzione per il Cersaie del 2018 in maniera tale che siano pronti per l'Eima che è a novembre del 2018. Secondo tassello, mi sposto magari scorriamo, secondo questi qui sono i padiglioni 29-30 che vengono rivisitati, completamente ricostruiti. Secondo tassello è questo, l'ingresso nord con un ampliamento con la costruzione all'interno dell'area 48 di un altro padiglione che è previsto all'inizio costruzioni subito dopo il Cersaie del 2019 per essere ultimati per il settembre 2020 in maniera tale che anche il Cersaie abbia la possibilità di sviluppare su merciologie che oggi difficilmente trovano posto se non in zone non in maniera organica collocata all'interno del percorso di visita. Ultimo tassello della ricostruzione e dell'ampliamento del quartiere è la parte prevista per settembre del 2022, è la parte dedicata al revamping e ampliamento della zona Piazza Costituzione. In questo piano l'altra cosa molto importante che dicevamo è che rivitalizziamo quota 6, andiamo a creare due ingressi altrettanto importanti sia su Piazza Costituzione che l'ingresso nord, andiamo a modificare tutto il sistema di distribuzione logistica all'interno del quartiere utilizzando un parcheggio come polmone per le attività di montaggio e di smontaggio degli stand che abbiamo già testato sia nel Cersaie di quest'anno che nell'Eima di quest'anno, dell'anno scorso, dell'ultima edizione, rispondendo perfettamente alla bisogna. L'altra cosa che andiamo a creare sono questi due ingressi Costituzione e ingresso nord di assoluta importanza. Oggi abbiamo un ingresso Costituzione che indubbiamente ha vissuto anche lei anni più gloriosi che quindi merita un forte revamping con anche una sua ristrutturazione che vada a ottimizzare sia l'ingresso del Palazzo dei Congressi che l'ingresso di Fiera e l'altra parte l'ingresso nord oggi è un ingresso ma è un ingresso di servizio, difficilmente si può dare l'idea di un ingresso monumentale per il secondo quartiere feristico italiano, direi che non è all'altezza. Quindi questi due interventi insieme alla creazione di un percorso a quota 6 metri, a una migliore ottimizzazione dei circuiti interni di visitazione e la creazione di due ingressi importanti, funzionali, adatti a manifestazioni come quelle che abbiamo in calendario, chiudono questa operazione di revamping. Poi rimango a disposizione per i votatori. Grazie Antonio. Grazie a voi. Architetto, due parole. Prendo il microfono. Mi riallaccio alle prime parole di Franco Boni sul concetto dei padiglioni benevolo che in realtà sono stati effettivamente la matrice, il pensiero iniziale per sviluppare questo progetto di revamping. In quale senso? Nel senso che nel passeggiare per la fiera, anche se era molto tempo che io non venivo qui a Bologna, ho riapprezzato e ho trovato di grande piacevolezza il passeggio che ti viene proposto in questi padiglioni, cioè non un elemento chiuso e occluso ma un momento anche di relax. Se noi andiamo a vedere un attimo con la morfologia urbana in questa tavola generale, per spendere soltanto due parole, non è che... ecco, diciamo... no, andiamo... voi qui avete mischiato un po' tutto, quella generale per questo esempio. Quella dove si vede il Parco Nord. Va bene, non importa, allora diciamo questo, che la città di Bologna si storicizza in alcuni elementi fondamentali, l'elemento del portico e l'elemento del giardino privato, del giardino interno alla residenza, che sono questi elementi spaziali di grande piacevolezza e di grande culture. Nell'esaminare l'insieme di questo territorio a nord di Bologna periferico, ritroviamo a nord le situazioni che potrebbero essere effettivamente rivitalizzate, così come già avviene in questo momento, con interventi importanti, che sono il Parco Nord, il Tecnopole ed altro. La fiera risultava un elemento quasi avulso, insomma rigido, non permeabile. Ecco, secondo me alla fine del pensiero si potrebbe dire questo, che abbiamo inteso far sì che la fiera risulti un elemento cittadino e urbano, anche a livello di passeggio, per cui la penetrazione non è legata secondo me, diciamo in linea teorica, soltanto alla visitazione degli elementi fieristici. Ma la costituzione di assi portanti, molto logici tra l'altro, che è l'elemento nord-sud, che è quello che ci consente di rivitalizzare attraverso anche interventi infrastrutturali l'accesso nord, che oggi veramente, come dice Bruzzone, è piuttosto modesto rispetto ad altri. Per cui questi assi di penetrazione suggeriscono poi degli elementi di sosta, e qui ritorno al discorso del benevolo, dove gli spazi interni alla fiera sono degli spazi di percorribilità quotidiana in un certo senso, con capacità di gestione, diciamo che questi elementi interni, questi assi risultano una molle che può essere concepita come strada urbana, con tutto ciò che avviene dal mercatino, alla piccola manifestazione fieristica, agli aspetti culturali, questo elemento lo visualizziamo abbastanza bene in un rendering, anche se questi sono rendering, diciamo, di lavoro iniziali su questo schema, ne stiamo facendo anche altri, se potete scorrere un attimo, velocemente, ecco andiamo in questo rendering si vede l'asse che diceva Bruzzone a quota 6 metri, che è quello che parte, diciamo, dalla stazione ferroviaria, della viabilità su ferro che abbiamo a nord e che collega tutto il sistema che oggi è un sistema, come diceva il dottore, mortificato da interruzioni, diciamo, che non consentono la fruibilità continua, tant'è vero che oggi le fiere vivono sostanzialmente in maniera ridotta rispetto alla loro potenzialità, ridotta perché tutti i padiglioni che sono stati fatti per necessità, diciamo, spaziale su due livelli risentono di questa inefficienza, tra virgolette, inefficienza che vogliamo cercare di eliminare attraverso questa percorribilità. Mi riferivo però prima a un altro, se potete proseguire un attimo velocemente, ecco, questi spazi, diciamo, a verde, che in parte sono interni a mo' di giardino d'inverno, altri sono invece a cielo libero, ma che consentono una vivibilità tutta interna al sistema fiaristico e non esterna al sistema fiaristico, il che significa che di fatto questo è un progetto sulla base di una matrice di sviluppo che va poi studiata anche nei dettagli e in maniera ovviamente più approfondita, consente un ampliamento funzionale, formale senza preoccuparsi di un'estetica inutile, cioè l'estetica dell'architettura, diciamo, del padiglione esterno. Questo è un complesso di edifici che non ha visibilità, anzi non deve averne, perché la sua fruizione è una fruizione tipicamente interna, per cui la massima cura, diciamo, dovrà essere posta in questi aspetti, perché tutto l'elemento esterno insieme a quelli che sono gli aspetti della logistica è un altro tema esistamente importante che abbiamo cercato di risolvere, perché pur riducendo alcuni spazi di manovra tra un padiglione e l'altro, se pensato in una zona a nord di circa 100.000 metri quadrati, dove può avvenire il tema del carico e dello scarico in un sistema che l'ingegnere Giuliano sta studiando in maniera dettagliata proprio per migliorare anche quello che è la fruibilità di lavoro, oltre che quella del visitatore. Grazie Gianni, bene, ancora due parole da parte mia prima di passare la parola all'amico Goldoni. Tra l'altro ho detto che oggi è una grande festa Massimo, infatti di là stanno preparando il tacchino americano, Thanksgiving. Ma io credo che valga la pena di spendere due parole per dire da dove siamo partiti. Ormai il consiglio d'amministrazione di una coma era prevalentemente orientato per andare altrove, non diciamo il nome perché in questo momento quella fiera sta attraversando dei guai importanti e noi non siamo coloro che godono dei guai altrui. Ecco, ci tenevo a dire che il fattore umano in questa vicenda è stato determinato. Ci sono molti modi per festeggiare, per leggere quella storia qua. Io preferisco come schema di lettura quella della valenza indistruttibile dei valori, della fiducia, dell'onestà intellettuale e dell'amicizia. Il presidente di una coma, il mio interlocutore, Massimo, è più piccolo di me, infatti è solo un metro e novanta, nel senso che diciamo noi dalle nostre parti. Io conoscevo e frequentavo i suoi, passavo tutti i giorni davanti alla loro fabbrica perché andavo a dirigere la Corgi, che è lì poco lontano e stranamente di colpo ci siamo trovati buttati dentro alla stessa trincea a fare una battaglia abbastanza decisiva. Direi che in questo siamo stati supportati meravigliosamente dai nostri bracci destri, lui dal direttore generale, dalla dottoressa Rapastella e io dall'amico Bruzzone che avete sentito poco fa. È stato un lavoro molto bello, tra l'altro loro hanno lavorato a volte tratti dal nostro entusiasmo anche senza tenere conto fino in fondo degli stimoli che arrivavano dai rispettivi uffici legali, quindi insomma siamo riusciti a arrivare in fondo. Un episodio che io ricordo e mi piace proprio ricordare oggi è quando sono venuto alla vostra assemblea perché siamo andati lì praticamente a vendere qualche cosa che non sapevamo neanche noi che cosa fosse ancora, a chiedere fiducia a tutto l'apparato dei costruttori delle macchine agricole italiane sulla base di due facce praticamente, che non erano ignote perché lui come presidente, io come uomo emiliano da molte delle aziende ero conosciuto, però mi piace ricordare quel momento al di là del trilling, al di là delle difficoltà, qui chissà se riesco a portare via gli stracci, perché ho percepito insieme a Massimo una cosa bellissima, cioè che avevano voglia di crederci, non è che ci abbiano creduto così, c'era proprio la voglia di credere che noi saremmo riusciti a mettere insieme questo faticoso accordo. Vorrei concludere molto rapidamente con qualche considerazione più generale invece sulla fiera e sul momento che stiamo vivendo. Siamo qui a festeggiare, è un accordo molto bello, sarà impegnativo, dobbiamo realizzare tutto quello che è previsto e che ci coinvolgerà per un certo arco temporale per molti anni perché come dice il mio amico Calzolari dobbiamo cambiare le ruote mentre la macchina va, quindi insomma è abbastanza impegnativo. Però anche questo secondo me deve essere uno stimolo, non dobbiamo restare indietro, qui purtroppo dobbiamo fare oggi dei grandi investimenti immobiliari, magari con una decina d'anni di ritardo rispetto ad altri quartieri che hanno reagito immediatamente, le fiere sono cambiate dieci anni fa quando è entrato in pista il nuovo quartiere di Rò. Vedo qui e lo ringrazio per la sua presenza il segretario generale del comitato Fiera Industria, il dottor Bianchi, sa benissimo meglio di tanti di noi le cose che bollono in pentola, ma lo leggiamo tutti sui giornali, su affari finanza, sul Sole 24 Ore, ce lo dicono l'UFI, ce lo dice la EFI, il CFI, insomma ci sono due tematiche che oggi non possono essere trascurate. Una è quella della internazionalizzazione e l'altra quella delle aggregazioni. Per quanto riguarda l'internazionalizzazione credo che noi abbiamo le carte in regola perché nel novero delle fiere italiane, io per questo ho ringraziato molto i miei predecessori, Bologna Fiere è al primo posto per quanto ha saputo negli anni realizzare con delle presenze molto importanti nelle aree più importanti del mondo, in Cina da un lato e negli Stati Uniti dall'altro. Quindi lì abbiamo le carte in regola, dobbiamo però non dormire sugli allori ed ecco perché ringrazio ancora una volta i nostri soci, qui così altamente rappresentati perché ci hanno dato oltre alla possibilità di fare gli investimenti immobiliari anche una dotazione per fare degli investimenti in sviluppo e posso anticipare che già nei prossimi mesi a livello internazionale ci sarà qualche novità da parte di Bologna Fiere. L'altro aspetto, le aggregazioni, so di fare un dispiacere a citare questo termine all'amico Presidente Bonacini che non ci crede affatto nelle aggregazioni, no in effetti è una necessità, bisogna mettere a fattor comune tutto quello che si può mettere a fattor comune, bisogna soprattutto avere delle visioni strategiche che consentono di fare dei cammini unitari perché la battaglia ormai non è più all'interno del cerchio europeo nel quale convogliavano un pochino le imprese del resto del mondo, ormai i cerchi sono tre, lo abbiamo anche stigmatizzato molto in alcune pagine del nostro piano industriale e andare in giro per tutto il mondo e vincere la competizione non solo con i grandi competitors europei, prima di tutto i tedeschi ma con i nuovi, con i new commerce che ci sono in giro per il mondo in Cina stessa o negli Stati Uniti esige di essere sempre più forti, più competitivi e l'unione fa la forza. Quindi questi due temi che sono così sottolineati diciamo in materia credo che noi non possiamo assolutamente trascurarle. Per concludere una speranza duplice da parte mia, la prima è che continui ad esserci e si sviluppi ancora di più se mai possibile questa bellissima vicinanza tra la città e la fiera, fiera e città, città e fiera devono essere un tutt'uno, abbiamo vissuto alcune ore bellissime pochi giorni fa con Arziti, con la presenza di nostra arte fiera in città, la città si è aperta, ha fatto vedere buona parte della sua cultura, delle sue bellezze, della sua storia a tutti quelli che erano presenti, è stata una cosa veramente molto bella. L'altra speranza è quella che noi non solo continuiamo a rappresentare sempre meglio, spero con questo revamping del quartiere, i grandi distretti industriali che sono qui nel territorio, non solo quello delle macchine agricole ma anche le piastrelle ma anche altri settori, pensiamo alla Motor Valley per citarne un altro, ma insomma questo è il distretto più importante che abbiamo in Italia e uno dei più importanti in Europa per le macchine da packaging. La mia speranza è che prima o poi noi possiamo avere qui anche quella rappresentanza. Ai miei amici dell'Una Coma, che con me e con noi gestiscono EIM, ma soprattutto alle istituzioni che sono qua presenti, che ci onorano con questa loro presenza, vorrei concludere ricordando quello che io dico sempre ai nostri collaboratori. Il vento era molto forte, ma noi non siamo di quelli che cercano un porto sicuro, quando il vento è molto forte alzano più vele per andare più veloci. Grazie. A te Massimo. Grazie Franco e buongiorno a tutti. Io mi collego inizialmente a quello che diceva l'amico Franco Boni perché voglio fare una considerazione oggi insieme a tutti quanti voi, che parte da questo concetto. Le cose, soprattutto quando ci sono aspetti importanti da mettere a fattor comune, partono sempre dalle persone. La persona è al centro di tutto questo ragionamento e qui le persone hanno fatto la differenza. Quindi permettetemi un ringraziamento sentito di cuore a chi ha interagito in tutto questo percorso. Ovviamente a cominciare da Franco Boni che vi ha raccontato alcuni tratti di quello che abbiamo attraversato. Ovviamente voglio ringraziare le istituzioni, quindi il Presidente Stefano Bonacini, con il quale abbiamo condiviso i valori che c'erano in campo, al Sindaco Virginio Merola e la città ovviamente che ha seguito queste esigenze, questi valori che volevamo mantenere. Voglio ringraziare ovviamente i soci di Fiera Bologna che hanno capito e assecondato tutta quanta questa nostra evoluzione. Voglio ringraziare i consiglieri e i sindaci del CDA di Bologna Fiera. I consiglieri meno uno. Li ringrazio tutti, guarda, faccio una cosa omnicomprensiva che ovviamente con grande fatica in certi momenti, con grandi discussioni, con grandi ragionamenti a tutto campo però hanno permesso di arrivare al risultato e arrivo dal punto di vista operativo alla struttura, alla struttura di Bologna Fiere, a cominciare dal direttore generale Bruzzone che è stato prezioso, a tutti quanti i collaboratori ma anche alla mia struttura, a cominciare dal mio direttore esecutivo, la dottoressa Rappastella che ha fatto veramente la differenza anche qui con la struttura di una coma che ha seguito passo passo tutta quanta questa vicenda e vi assicuro che è stato tutto fuorché facile anche nei dettagli perché come dice qualcuno nei dettagli si nasconde il diavolo. C'è sempre qualche cosa da capire, approfondire, valutare e migliorare dove è possibile. Ovviamente ringrazio anche tutti quelli che hanno interagito con tutta questa evoluzione e quindi parlo anche dell'assessore Palma Costi che ho visto prima ma forse è già andata via per un altro impegno e ringrazio la stampa, gli organi di informazione che sono stati un fattore determinante anche questo, in certi momenti un po' polemici nell'andare a scavare ma il loro mestiere in alcuni dettagli ma che hanno seguito tutta quanta la nostra trattativa e valutazione per poter informare ma soprattutto per avere una visione a tutto campo di quello che stavamo facendo. Dicevo le persone fanno la differenza, ne sono sempre stato convinto e questa è stata l'ennesima riprova. Con Franco Boni appunto abbiamo un vissuto vicino ma fino a poco tempo fa non lo sapevamo. Ci siamo incontrati in questa situazione che ripeto all'inizio era tutt'altro che facile e credendoci, mettendoci la faccia, a un certo punto lui prima ricordava di quando è venuta la nostra assemblea. Gli abbiamo detto bisogna che vieni a farti vedere, bisogna che vieni a parlare. I nostri associati, i nostri costruttori vogliono avere delle indicazioni su quello che possono fare, su quello che potranno essere gli sviluppi. Ed è chiaro che in quel momento noi stavamo facendo una scommessa su qualcosa in cui credevamo. Però non avevamo certo degli elementi concreti di certezza su cosa si sarebbe potuto sviluppare in futuro. Però questo crederci, questo metterci la faccia, il lavoro, a tutte le ore, ci siamo interfacciati a tutte le ore del giorno e della notte, sabato, domenica e feste comprese e credo questo ha premiato. Questo ha premiato perché poi c'è stato il modo di capire cosa si stava giocando in quel momento. No, figurati, perché il discorso è, prima parlavamo di CFI, di Aefi, in questi ultimi, soprattutto ultimi 5-6 anni, ma soprattutto gli ultimi 10 a questa parte, è cambiato completamente il modello di business e quindi è cambiato completamente anche il modo di affrontare una fiera. Una fiera deve diventare sempre di più un happening, una cosa a tutto campo nella quale si mettono insieme tutti i player, tutti gli stakeholder, tutti quelli che hanno interesse in un determinato campo. Eima, e qui vengo a noi, è riuscita in questo intento e di nuovo qui ringrazio la mia struttura, ha dimostrato a novembre scorso la portata che può avere un evento di questo genere. Abbiamo battuto tutti i record, siamo arrivati vicini alle 300.000 presenze nel quartiere fieristico, siamo riusciti a interfacciarci con una serie di operatori stranieri veramente formidabile, abbiamo creato eventi, abbiamo sviluppato delle attività a tutto campo e questo è il risultato che le aziende che investono e sappiamo quanto si deve investire adesso in una fiera, vogliono come risultato e quello fa una fiera di successo. Quindi questo è il nostro driver, noi non dovremo e non potremo mai discostarci da questo, quindi internazionalizzazione, prima citavi quello che si è potuto fare e l'altra parte è innovazione che poi Bologna ha qualcosa di bello perché è capace di coniugare innovazione e tradizione ed è stata la nostra forza. Noi siamo riusciti a innovare radicandoci sempre di più nella tradizione che è l'asset fondamentale per una fiera come la nostra, noi vendiamo beni strumentali, il nostro è un comparto molto tradizionalista, abbiamo bisogno di certezze e abbiamo bisogno di interfacciarci col territorio e qui a maggior ragione dico due emiliani che vengono da province diverse però hanno saputo trovare a Bologna la coniugazione di quello che era un intento molto molto ambizioso. Io non voglio dilungarmi ancora perché ripeto oggi è un giorno di festa, io ho veramente una soddisfazione totale perché credo di aver portato avanti nel modo migliore un discorso così complesso. Da adesso in poi però sotto a mille perché c'è veramente tanto da fare e non possiamo sicuramente disattendere quello sul quale ci siamo impegnati. Quindi grazie di nuovo a tutti, grazie di nuovo alle istituzioni che sono state fondamentali in questa nostra trattativa e successo. Grazie davvero. Grazie Massimo. Ce la fai? Lasciamo parlare prima a Virginio? Allora sentiamo il Presidente della nostra regione. Ci ha chiedere al Sindaco. Giustamente, chiedo scusa ma io ho il treno per Roma. Tre cose fondamentali. la prima. Si mette un punto fermo per i prossimi anni e anni per fare di Bologna, di questo io e Merola ne siamo orgogliosi, la capitale o una delle capitali ma direi la capitale della meccanica agricola mondiale. I numeri sono quelli che avete sentito, non possono che migliorare immagino. Avevamo promesso come istituzioni, dirà dopo Virginio per la parte comune, ma insomma di intervenire sul quartiere e interveniamo sul quartiere. Secondo, avevamo detto che le fiere sono un pezzo rilevante del sistema di promozione e internazionalizzazione del nostro territorio, del suo sistema di marketing territoriale e se sto ai numeri di ieri sul turismo, oggi tutti hanno e avete titolato numeri da record e se sto ai numeri che questa mattina Prometeio e Union Camere indicano, poi vedremo se saranno confermati uno zero, uno in più o in meno, ma che ci collocano stabilmente l'ocomotiva del Paese con numeri che neppure i più ottimisti si aspettavano e addirittura la disoccupazione che si conferma in due anni scende di due punti con solo in un anno 47.000 posti di lavoro in più al netto di quelli perduti. Quindi quando indicavo due anni fa per l'eletto Presidente che potevamo creare 100.000 posti di lavoro in cinque anni qualcuno sorrideva, adesso riderà meno, spero ridano quelli che hanno trovato il lavoro e dobbiamo far sorridere ancora i tanti che il lavoro l'hanno perduto e non l'hanno trovato, ma noi stiamo andando sulla stata giusta, noi siamo una regione leader in questo Paese, dobbiamo averne l'orgoglio e la consapevolezza e a chi ogni tanto rappresentate il mondo imprenditoriale sento dire che bisognerebbe fare di più, ci dica come. Abbiamo sottoscritto il patto per il lavoro con tutte le forze sociali, con gli amministratori, con città metropolitana stiamo lavorando molto bene insieme e abbiamo detto più forte è Bologna, più forte è Emilia Romagna, non meno. Terzo e ultimo punto, noi non ci accontentiamo, vogliamo dar corso a quell'obiettivo che è quando termineremo i mandati di lasciare una regione che abbia la disoccupazione su livelli più consoni a quelli che l'Emilia Romagna aveva conosciuto nel dopoguerra, stiamo lavorando molto perché l'apertura dell'Emilia Romagna al mondo, altro che muri, si consolidi, vengono milioni di turisti da tutto il mondo e crescono, questa fiera è un contributo a far venire persone dal resto del mondo, le nostre imprese competono quando esportano perché producono manufatti che hanno un costo del lavoro più alto che in molte parti del mondo ma inimitabili spesso per la qualità che producono a proposito di manifattura, insomma per me è una bellissima giornata, è un merito di chi ha condiviso e scelto questa strada, certo lo diceva il Presidente Boni per quanto mi riguarda e ci riguarda, questa è la seconda fiera del Paese, sistema fieristico, ne abbiamo altri in questa regione che si collocano stabilmente nei primi 10-11 posti, se decidono davvero di mettersi insieme, io penso che probabilmente nessuno può battere i sistemi fieristici dell'Emilia Romagna, nell'idea che è il tempo nella globalizzazione di lavorare insieme e non competere tra essi, quindi grazie per quello che è stato fatto, che avete fatto, che è stato raggiunto e io a nome della regione sono molto contento di vedere un altro tassello di quelle promesse che una a una stiamo mantenendo tutte e la politica ti ritrova credibilità quando mantiene quello che promette. signor Sindaco Grazie, grazie Franco, anche da parte mia parole di apprezzamento per questo evento, una raccomandazione appunto è un giorno di festa quindi io non risponderò a altre domande se non a quelle che riguardano la fiera ma è un giorno che vorrei anche sottolineare, vorrei sottolineare perché abbiamo l'abitudine di andare per scontate le cose sulle quali invece si è polemizzato e ci si è preoccupati per molto tempo, questo è un grande traguardo, è un ottimo risultato, non era affatto scontato ma l'abbiamo raggiunto. Innanzitutto l'abbiamo raggiunto grazie alla determinazione di Franco Boni, del direttore Bruzzone che ringrazio insieme a tutte le strutture tecniche che ci hanno lavorato e grazie al lavoro assiduo e alla tenacia di Goldoni, sicuramente è stato importante il fattore umano, sono stati importanti i dettagli, a proposito dei dettagli se notate questa cicatrice sul volto di Goldoni vi dirà che la fase delle trattative è stata molto umana ed è stata condotta al meglio. Detto questo io cosa posso sottolineare in più rispetto a quello che ha detto il Presidente della nostra Regione? Che siamo determinati a rafforzare la Fiera di Bologna, a rispettare questo accordo in tutte le sue tempistiche perché rafforzare la di Bologna significa rafforzare il processo di costruzione di un sistema fieristico regionale competitivo adeguato ai tempi della globalizzazione o di quella globalizzazione che si annuncia un po' segmentata sulla quale bisognerà cominciare a ragionare viste le novità. rafforziamo con questo accordo uno dei fattori costitutivi delle potenzialità della nostra Fiera cioè le filiere industriali e ci diamo le basi per maggiori iniziative di promozione internazionale. Voglio sottolineare la portata di questo accordo per non passare subito all'elenco dei guai. Una volta che abbiamo una cosa positiva io vorrei fermarmi su questo. Stiamo discutendo con Ferrara e Modena che condividono con noi il sistema fieristico un accordo tra la città metropolitana e le due province in modo a che anche sul sistema fieristico ci sia una rappresentazione della nostra effettiva area metropolitana. Quindi dobbiamo andare avanti da questo punto di vista per quanto riguarda la città l'esposizione veloce dell'architetto Gianni ci fa comprendere quanto ci sia di rigenerazione urbana in questo progetto perché lavoriamo anche qui sul già costruito, lo riqualifichiamo e si vede un pezzo di città che sta entrando in base agli accordi raggiunti in una fase di completa riqualificazione urbana. Il Parco Nord è nell'accordo per il passante di Bologna per diventare un bosco della città. Ci si salva definitivamente un'area verde che sarà attigua alla nuova fiera e si creerà quindi anche da questo punto di vista un lavoro di pregio non solo architettonico ma anche di sostenibilità ambientale. Queste sono le cose, si entra in una fase di attuazione, è stata votata la riquipatrializzazione della fiera, questa determinazione ha ovviamente aiutato il raggiungimento di questo accordo e adesso entriamo in una fase di attuazione che sarà una fase di attuazione a ritmi importanti ma che credo siamo in grado di sostenere sia come fiera che come città. Ecco queste sono le considerazioni e penso che queste vanno tutte apprezzate e sottolineate. Questo è possibile farlo perché c'è una regione che decide, una città metropolitana e un comune che decidono perché c'è un presidente che fa il presidente e un direttore generale che fa il direttore generale. Voi mi direte scontato? No. Questo è quello che ci ha permesso di fare questo cambio di passo che voglio sottolineare rispetto anche alle capacità del mondo imprenditoriale di saper cogliere come testimonia questo accordo con Eima i fattori di competitività che può garantire il nostro sistema fieristico che si promuoverà sempre di più insieme alla città e insieme alla città metropolitana sia come occasione di incontro che come occasione di eventi fieristici. Non dico che faremo passare i trattori sotto gli autovelox di via Stalina ma credo che sarà importante anche da questo punto di vista a proposito di cultura del manifatturiero dare qualche segnale di coinvolgimento alla città. Adesso non pensare che mi porti al Nettuno ai trattori, lasciamola così nel vago ma non c'è solo Art City per coinvolgere la città, l'agricoltura va molto di moda da un certo punto di vista vedi la questione FICO e quindi credo che avremo altre opportunità di coinvolgere la nostra città e la nostra città metropolitana in questi eventi. Quindi grazie davvero, lo sottolineo io, loro diranno che era scontato però diciamocelo almeno fra di noi, siete stati molto bravi e alle domande sui guai non rispondiamo. Grazie, direi che non so se ci sono domande non però sui guai, domande sui guai però hai detto che non le vuoi ascoltare, domande sull'accordo, domande su questa esaltazione della nostra emidianità, diciamolo. L'unica cosa è non parlare di Parma e mia presidenza. L'accordo si basa su un piano di revampi che si basa sull'acquisizione del Palazzo degli Affari quindi non è un guai ma è una continuazione di quello che ci avete spiegato. Se quel Palazzo degli Affari non ci sarà, il piano come cambierà? Come state pensando di risolvere questa vertenza? Lo dico anche a Goldoni in qualità serie consigliere ma anche soprattutto come diretto interessato dello spazio che serve. Buongiorno, grazie e le rispondo io. Lui è membro del Consiglio d'amministrazione per questo che ho detto prima tutti hanno provato meno uno perché lui non poteva provare se stesso. Il piano evidentemente ha una sua dimensione come è stato chiarito che trova nella rivisitazione della parte di piazza della Costituzione uno dei suoi aspetti importanti perché come è stato credo anche citato velocemente dall'architetto che ancora ringrazio per la sua presenza c'è la possibilità di fare un disegno complessivo con un revamping che coinvolga sia l'ingresso che il vicino parla congressi che noi grazie anche alla disponibilità del comune pensiamo di rilanciare, risistemare in quanto oggi e soprattutto negli anni futuri l'attività congressuale è una cosa molto importante sui bilanci delle fiere. Quindi se e in quanto non ci saranno ostacoli e il delicato processo relativo a questo immobile si concluderà con la sua aggregazione e quindi con lo sviluppo e la concretizzazione del piano che è stato fatto benvenga è sicuramente la nostra soluzione preferita e privilegiata. Peraltro secondo me possono sorgere delle difficoltà nella realizzazione della incorporazione di questo edificio i nostri tecnici hanno già studiato una soluzione alternativa che possa consentirci comunque di completare il nostro perimetro di revamping del quartiere a prescindere anche dall'arrivo del palazzo degli affari di pertinenza camerale. Il piano B è semplicemente la collocazione della cubatura che serve per accontentare, dire accontentare non è il verbo esatto, per rispondere alle esigenze di EIMA ma non soltanto, attenzione perché noi abbiamo credo ampiamente chiarito che EIMA è stato il detonatore ma grazie a Dio per volontà della nazione abbiamo anche molte altre nostre manifestazioni che esigono di avere degli spazi di ulteriore sviluppo. Legacy Cosmoprof, Legacy Autopromotech, Legacy Cersaie e da poche settimane anche Motor Show. Quindi sicuramente ci sono degli spazi che noi abbiamo già identificato e nel caso non venga effettuato il conferimento o la cessione o la vendita o l'acquisto, insomma non si concluda la partita della palafari abbiamo già individuato dove realizzare quella maggior cubatura che serve per le esigenze di EIMA e non solo. Grazie a lei. Doni Gallia Luca a dire, avrei una domanda per il sindaco Merola, non è un guaio credo, visto che a marzo scade il mandato del presidente Boni anche alla luce dell'accordo raggiunto oggi e del lavoro che è stato fatto per raggiungere l'accordo di oggi, volevo capire se ci si sta avvicinando verso un'eventuale conferma o se ha qualche cosa da dirci in merito. Grazie. Questo non è un guaio, ma io penso che stiamo reagendo come fiera, stiamo facendo un ottimo lavoro, in particolare il presidente Boni e il direttore Bruzzone. Penso che il vero traghettamento debba essere arrivare al sistema fieristico unico e quindi credo che è bene che Boni ci accompagni in questo processo. La questione è che io voglio accelerare insieme al presidente Bonacini questo processo di creazione di un sistema di holding regionale. Da questo punto di vista io non vedo nessun dramma sul fatto che la fiera sia di controllo pubblico, penso che questo potrà aiutarci in questa determinazione per costruire una holding regionale e penso che noi dobbiamo fare in modo che il potenziale della fiera si realizzi nei tempi più brevi perché abbiamo bisogno di processi edizionali molto veloci, in particolare riguardo quella lì e poi anche perché il nostro aeroporto sta sviluppando, accompagnando questo processo con l'apertura di nuove linee anche verso la Cina e noi dobbiamo assolutamente stare al passo con i tempi. Quindi io penso che sia giusto assumersi delle responsabilità e penso che la mia scelta sarà indirizzata ad assumere il controllo pubblico della fiera non in contraposizione ai privati ma semplicemente come una scelta necessaria per accelerare il processo di convergenza verso un sistema unico regionale. Per quanto mi riguarda la fiera deve continuare a patrimonializzarsi e quindi penso che sia opportuno conferire il palazzo dei congressi e non solo darlo in affitto in modo che questa discussione si concluda anche rispetto alle filiere industriali come una certezza granitica che il sistema metropolitano e regionale vuole procedere su un assetto di controllo pubblico della fiera di Bologna con una gestione adeguatamente privatistica sulla quale si stanno cimentando, secondo me è bene, sia Abruzzoni che Franco Boni. L'unico difetto che è di Parma, nessuno è perfetto al mondo, ma credo che a proposito di tante versioni della bolognesità Bologna ne ha una. Cerchiamo di prenderci il meglio da tutte le parti. che penso che sia quella la migliore. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.